Sì, questo è il barbecue. La legna l'abbiamo spezzato con le gambe e questo è il tavolo per mettere la carne. Gli attrezzi? Sì. Ma prima di mettere la carne si deve, quando il fuoco si accende, si deve con questo pulire. Nicola sta preparando un video, Nicola è grande, grande amico, questo è il sale, tutto è pronto per preparare un grande barbecue. Sì, ciao. Abbiamo aiutato tutti. Musaka è finita. Musaka è finita. Ma chi lo sa è molto buona. Ma vediamo. Ci vediamo. Sì, ciao. Ciao. Scusa perché preparare gli amici è sempre qui. Eh sì, è fatta col cuore. Eh sì. Ciao. Ciao.